Ciao a tutti, da Daniele Giorgini, sono qui al Vomero, al Tennis Vomero di Napoli. Ho appena finito la finale, per me è andata bene, sono contento di questa settimana. Positiva, mi sono trovato bene con la città, con la gente, veramente sono contentissimo. Che dire, speriamo continui così e un abbraccio agli amici di utennis.net.